Salve da Riccardo Morginio, benvenuti alla puntata dedicata oggi a Football Story di Lettera 22, con me Maurizio Martucci. Ciao Maurizio. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. E allora questo è uno dei pochi libri, o il solo libro credo, proprio a essere dedicato alle storie delle maglie, delle squadre, al loro musei, alla musealizzazione del calcio, l'unico libro al mondo che raccoglie tutti i musei del calcio, musei e mostri del calcio. È scritto chiaramente tu, a un prezzo poco più di 20 euro, 24 per l'esattezza, la casa editrice è Nervini, innanzitutto diciamo, se hai avuto, ti chiedo difficoltà a fare questo libro.